Vittoria importante per la capolista San Luca nel confronte della fanerina di coda Trebbisacce, una vittoria per 4 a 0 che mantiene la capolista a un punto di vantaggio sulla inseguitrice e regia mediterranea e consente agli uomini di De Angelis di prepararsi per la partita infrasettimonale di Coppa Italia Nazionale con il Giarre. Le reti di Pelle, Lazzarini, Maviglia e Mammoliti hanno consentito, come dicevamo alla San Luca, un'agevole vittoria per poter continuare ancora a sperare sia nell'ambito del campionato di eccellenza che sta disputando, sia nelle potenzialità di poter giocarsela anche nella successiva occasione della Coppa Nazionale. È comunque un buon risultato che potrebbe davvero essere importante per la squadra calabrese. Grazie a tutti!